Cine Vedrete scene di film famosi e le colonne sonore suonate dal vivo Quiz, perché dovrete indovinare di che film si tratta Cine Quiz Show è un gioco Il pubblico gioca con noi, indovina il titolo del film con appunto una scena recitata O con la colonna sonora originale che viene suonata da Jacopo Io sono il pianista che suonerà appunto le colonne sonore dei film famosi Agente Starling, tu pensi di sezionarmi con questo strumento spuntato? No, io pensavo che la sua conoscenza... Sei molto ambiziosa vero? Tu sai cosa mi sembri con la tua borsetta pulita e le scarpette a buon prezzo? Mi sembri una campagnola, un'energica campagnola ripulita con poco gusto Sei stata nutrita bene e questo ha allungato le tue ossa Ma non ti sei spinta più là di una generazione rispetto ai rifiuti umani da cui provieni, vero? E' quell'accento che hai così disperatamente cercato di perdere Pura Virginia occidentale Che fa tuo padre? Fa il minatore? Puzza ancora di lampada a petrole? So come ti hanno scoperta in fretta i ragazzi Tutti quei noiosi, puzzolenti palpeggiamenti sui sedili posteriori delle macchine Mentre tu avevi un solo sogno Andartene via Cercare qualunque cosa ti desse la possibilità di arrivare all'FBI La sua analisi è chiara Ma è abbastanza forte da rivolgere su se stesso questa potente intuizione Che ne dici? Perché non Perché non si guarda dentro e scrive quello che vede? O devo pensare che le fa paura? O devo pensare che le fa paura? O devo pensare che le fanno Grazie a tutti.